La Sagra della Goletta è arrivata alla diciottesima edizione e stiamo lavorando già da una settimana per l'allestimento, per tutti i preparativi, mancano appena due giorni. La festa inizia saba venerdì sera, venerdì alle 19 c'è un aperitivo e poi iniziano il ballo, il centro sociale con i giovani e il ballo per il liscio e così via. Sabato mattina abbiamo una camminata organizzata dall'associazione che c'è lì a Ponterio, una camminata amatoriale di circa 10 chilometri. Poi invece domenica è il giorno clou dove ci sono tre manifestazioni molto importanti, una manifestazione nazionale canina al campo sportivo di Ponterio organizzata dall'Arci Caccia regionale. Poi abbiamo un raduno di auto, moto e vespe d'epoca sempre domenica mattina con appuntamento alle 8.30 che ha un percorso molto interessante. Si parte da Ponterio, si va a Mondolfo, da Mondolfo si ritorna a Ponterio e poi si fanno i tre castelli, cioè Monterado, Castelcolonna e Ripe. In Piazza Ripe lo stesso abbiamo un appuntamento di 10 minuti con un aperitivo offerto dal Circolo Arci e il saluto del sindaco e poi si ritorna a Ponterio. A tutti i partecipanti verrà offerta goletta, verdicchio, bruschette e così via, da mezzogiorno a luna. E allora abbiamo pensato di fare un memorial a El Sodonati che è stato campione italiano, credo negli anni 2000, campione italiano di serie B della Ruzzola e un altro Nazareno Angeloni, detto Neno, che è deceduto recentemente e c'è un memorial, una gara, arrivano squadre dall'Umbria, dalla Toscana e così via e si fa questo memorial. Si gioca dalla mattina alle 8 sulla strada bruciata, finisce alla sera alle 18, poi c'è la premiazione, noi siamo pronti e per tre sere c'è la musica, lo spazio per Deliscio e poi ci sono tre gruppi nello spazio giovani, abbiamo uno spazio giovani con un menù molto interessante. Venerdì per esempio abbiamo un gruppo molto importante, un gruppo marchigiano, gli amici dello zio Pecos, che sono molto seguiti, molto riconosciuti e venerdì dalle ore 22 fino a mezzanotte questo gruppo si esibirà per i giovani nello spazio giovani che abbiamo appositamente allestito.